ci troviamo al bar caffetteria pasticceria amici aperitivo a napoli la stessa cosa sulla zona di Piazza Carivaldi e il Duomo ecco a voi questi sono tutti i bar che hanno aderito pure loro per lo sponsor al quarto metaggio venito qui by Life ecco a voi questo è il bigliettino caffetteria pasticceria prima colazione lunga bar consegne a domicilio napoli corso un petto 184 via sante renzi ok tel 081 195 73 826 e seguirli anche su instagram bar bruno napoli ok www.barbruno.it seguirei anche sul sito e su instagram in tutto questo è un bellissimo caffè ma lo fanno molto buono il caffè ce lo prendiamo in diretta la macchinetta è quella vedete come fa il caffè sono belli puliti bello puliti il banco ok ok andate andate ok ci vendiamo il caffè e dono l'inviato di Brunella Alberini e l'ideatrice Brunella Alberini del progetto My Life e la caffetteria aderito per lo sponsor aderito per lo sponsor My Life il cortometaggio Massimo Burdi e Max Cavallari caffè ecco ecco ok questi tutti i bar qui fuori pure vengono a servire vedete l'edicola anche l'edicola hanno l'edicola e bar è tutto unico bar anche edicola questa è la loro, guardate questa è l'edicola del bar giusto è l'edicola del bar questo? ok tutti uno, edicola, carissimi e il bar vedete questo è tutto l'ingresso tutto unico edicola al bar vendono dolci possono siedere anche qua fuori vedete vendono dolci, cornetti, tutto guardate dolci dolci tutto vi aspettiamo in tanti qui al bar ok un bacione e che dire saluto Lidia Alice e Bunella Berini ciao